Un saluto, ben ritrovati amici rossoneri, come state? Se sentite qualcosa e qualche tuono in lontananza, ben ritrovati su Milanello, la casa del Milan dei Milanisti su YouTube. Vi invito a lasciare un bel like qui sotto, a iscrivervi in questa zona, attivate la campanella, siamo quasi 84 Milan, forza ragazzi, lasciate un bel like perché è giornata di vigilia. Facciamo anche i pronostici oggi, ci prendiamo abbastanza. Prima vi ricordo la notizia bomba, l'iniziativa bomba di Milanello in collaborazione con Numero 10, la più scaricata ormai da diverso tempo per gli appassionati di calcio. Iscrivetevi, o meglio scaricate qui sotto l'app da questo link, scrivete il vostro nome se l'avete scaricata, fatela scaricare anche a chi conoscete. Assegniamo una maglietta del Milan come questa, personalizzabile con il giocatore che volete, come nome e numero, e anche tre biglietti per andare con amici o parenti, fidanzata, amici, amico, tre biglietti per il derby del 3 di settembre. Quindi fatelo numerosissimi e scrivete il vostro nome qui sotto, mi raccomando, davvero iniziativa bomba in collaborazione con l'app numero 1 di Numero 10. Dovete scaricarlo da questo link, fatelo numerosissimi, ne vale la pena, non costa nulla, perché no, magari si vince e siete fortunati. Allora ragazzi, intanto parto subito con il pronostico, i miei pronostici voglio leggere se vi va anche i vostri. Allora, Monzu Udinese, tra poco temo che l'Udinese possa vincere e a quel punto saltare la panchina di stroppa con dei zerbi che mi dicono essere molto caldo. Lazio Inter, un po' per scramanzia, un po' perché non voglio farmi facili illusioni, dico 2, sapete benissimo che spero diversamente. Cremonese Torino X, Juve Roma X, Milano Bologna non mi esprimo, Spezia Sassuolo 2, Verona Atalanta 2, Salernitana Sampdoria X, Fiorentina Napoli X, Lecce Empoli X, tanti X ragazzi, non lo so come mai ma ho sentito di dire tanti X, scrivetemi anche qui le vostre impressioni se vi va. Allora, oggi conferenza stampa di Mr. Pioli che ha detto cose interessanti, intanto ha risposto un po' alle domande su che sì, lui dice l'anno scorso mi segnalavate sempre che giocava male, adesso rimpiaggete che sì, insomma ha risposto, però effettivamente un che sì comunque servirebbe al Milan, lo sappiamo è tra poco novità anche di mercato. Ha toccato diversi temi con, poi notizia che a me dà tante soddisfazioni che vi già mi dà l'Arenalina, tra poco ve la do, con appunto un ballottaggio aperto tra Pioli e Origi, scusate tra Origi e Giroud, dice domani uno di loro due sarà titolare, adesso vi svegliamo chi dovrebbe essere. Su Leao dice, io lo alleno non con il pensiero di perderlo, e ripeto, Leao resterà al Milan, deve pensare di continuare a migliorare, a potenziare chi glielo permette, i suoi atteggiamenti vanno in tutt'altra direzione rispetto a uno che vuole andare via, e quindi forza, 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 aggiungiamo noi Raffa che secondo me domani timbra, lo dico, lo dico, domani secondo me Raffa timbra. Poi, tra le varie cose dette, su Adli, ne avevamo discusso anche nei giorni scorsi, lui ha provato un po' a inquadrarlo nel centrocampo a due, però lo boccia, nel senso che dice, ieri non c'era perché è nata la figlia ancora Auguri, oggi si è allenato ed è disponibile per domani, non giocherà, aggiungiamo noi, mi piace molto come giocatore, poi devo fare delle scelte, verrà il momento anche per lui per trovare spazio, in questo momento lo vedo difficile farlo giocare tra i due mediani, più probabile come mezzale in un centrocampo a tre, effettivamente lui è un mezzale in un centrocampo a tre oppure trequartista, in un centrocampo a due va lavorato molto e anche parecchio, vedremo se ci sarà questa evoluzione o se magari evolverà anche il modulo del Milan, ne parleremo in un video dedicato appunto. Sul 4-3-3 infatti dice tutto è possibile, mi piace che i giocatori trovino sempre soluzioni, sono loro a indirizzare quale strada seguire, certo è che in una squadra che è in rosa tra i trequartisti, quindi Adli, Diaz e De Ketlare, usare un modulo senza diventa difficile, poi diventa importante muoversi, essere fluidi, po' bega più un giocatore di inserimento. Questa è dunque la situazione, Kier sta molto meglio e su De Ketlare, adesso sviluppiamo insieme quello che lui dice, mi fido di lui, può essere arrivato il momento di partire dall'inizio, è molto intelligente, mi sta sorprendendo per la velocità con cui sta imparando la lingua, molto intelligente, e per la curiosità per i nostri schemi, in quel ruolo ho tanta scelta. Adesso poi veniamo al discorso mercato, la notizia che era nell'aria, ma che oggi possiamo dare ormai quasi certificata, detto che poi nelle prossime ore domani avremo mattina, ma ecco, una risposta in più dopo la notte che porta consigli, la notizia che mi provoca felicità, adrenalina, soddisfazione, è che finalmente tra poco più di 24 ore vedremo il nostro principino De Ketlare titolare. Titolare significa che non dobbiamo pensare, entra gli ultimi 15-20 minuti, lo vediamo dall'inizio, a regime contro il Bologna e quindi siamo pronti perché possano brillare i nostri occhi, perché lui davvero ci possa strappare tanti tanti applausi, davvero l'abbiamo inseguito a lungo quest'estate e vederlo dall'inizio è una realizzazione per quanto mi riguarda non di un sogno, ma di un obiettivo. Finalmente Mr. Piolli si è convinto di farlo giocare e credo che siamo tutti contenti e molto, 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 molto curiosi di arrivare domani alle 20.45 e vederlo schierato con gli 11, con le giocate subito pronti via. Ovviamente non è ancora a regime, non conosce ancora benissimo gli schemi, i compagni, però ecco domani speriamo che davvero il buongiorno si veda dal mattino, anche se ha fatto già vedere dal mattino qualche giocata mica male. Adesso vediamo il discorso mercato, la formazione quindi è Meignan, Calabria, Teo, Caloluto Amori, Benassar Tonali, Tonali che magari un po' più di su di giri rispetto all'ultima prestazione quando rientrava in un infortunio, Leao, dal quale mi aspetto gol domani ragazzi, lo dico domani, Leao segna, De Ketelare e in avanti Giroud favorito su Riki e sulla destra il dubbio tra Messias e Salemakers. Con sulla carta una partita con una squadra chiusa che prevede magari l'intuizione della giocata, un giocatore più offensivo come Messias. Dall'altra parte però è giusto premiare anche chi merita, Messias nei primi due non ha fatto benissimo e quindi c'è l'idea Salemakers per dare un po' più di equilibrio alla squadra. Questo è un dubbio che secondo me ci portiamo avanti fino a domani mattina, personalmente ragionerei su Salemakers. Io domani la mia chance la giocherei su Salemakers. Quindi ragazzi tanti like per l'esordio dal primissimo minuto per il principino belga, De Ketelare o De Ketelare, De Ketelare. E ora veniamo al discorso mercato con un po' di novità, nel senso che vi dicevo abbiamo incassato i 60 milioni, non l'abbiamo incassato, il West Ham sta per versare più di 60 milioni nelle casse del Lione. La percentuale che abbiamo scoperto oggi non è sulla futura rivendita totale, ma sulla differenza tra il valore del prezzo per cui era stato pagato Paketà al Milan dal Lione e quanto incassera al Lione. Quindi lui era qui stato per 21 milioni se non ricordo male, se va via per 60 milioni, potrebbe essere anche più di 60, il disavanzo è 40, su questo si calcola il 15%, quindi sono 6 milioni di euro, non 9. Però sono 6 milioni di euro e non è poco, che potrebbero aiutare appunto il mercato. In quest'ultima settimana, mercato che chiude tra meno di una settimana, il primo. Dopodiché, ogni edica, che era l'obiettivo dopo Renato Sanchez, va al Bruges che ha offerto 9 milioni di euro, accordo molto vicino, quindi è un altro che depenniamo. Su Franks del Fosburg si inserisce anche l'Atalanta, che lo vuole però con la formula del prestito con diritto di riscatto, prestito però oneroso. E su Nana si parla anche dello Spezia, gli altri obiettivi, la mia sensazione è che Nana in questo momento non sia decisamente una prima scelta per il Milan, che lo tiene lì un po' in disparte, magari ha fatto gioco anche al procuratore, vediamo che cosa succede. Questa è la situazione ragazzi, e non vedo l'ora di domani. Intanto oggi stagiamo un po' di campionato, quando si vedono le partite è sempre bello, con il Monza, che spero possa vincere, ma temo perderà nel mio pronostico, e poi stasera non voglio illudermi, non voglio illudermi però non serve male se la Lazio. Eh, ci siamo capiti. Scaricate la BDS a questo link numerosissimi, mi raccomando, tra quelli che la scaricano uno vince la maglietta come questa personalizzabile con il giocatore che vuole, e un'altra persona vince tre biglietti per il derby, quindi mettetevi d'accordo con l'amico, scaricate da più persone, e nel caso andate appunto con gli amici con cui avete concordato. Scaricate da questo link, scrivete il vostro nome, lasciate un bel like, iscrivetevi numerosi qui, se volete invece la maglietta di Milanello come questa, è la versione ufficiale, divisa ufficiale di Milanello, la trovate su milanello.com, i vostri pronostici qui sotto, e dai ragazzi, domani bisogna vincere per forza di cose, io sono più persa le magers, voglio sentire anche la vostra, scatenatevi qui sotto, temporale che non ci ha dato molta noia, qualche tuono in lontananza, un abbraccio, scaricate tantissimi lab di DS, ciao!